Buonasera, ben ritrovati, una nuova puntata di Angoli e siamo in compagnia di Alice Proserpi, psicologa, e Diana Valsecchi, dottoressa in psicologia dell'associazione In Out. Buonasera, prima di entrare nel vivo, di spiegare anche che cos'è l'associazione, come è nata, di che cosa si occupa, devo fare una cosa, ovvero devo ricordarvi la mail per comunicare con la redazione del programma angolichioccialespansionetv.it, mi raccomando utilizzatela perché noi insomma abbiamo bisogno di un feedback per capire quali sono gli argomenti che vi interessano, quelli che vi piacerebbe e che approfondissimo qua assieme, quindi insomma scriveteci. Torniamo all'associazione, si chiama In Out ed è nata da poco, relativamente da poco, a gennaio. Esatto. Raccontaci qualcosa di più Alice. Allora, come dicevi l'associazione è nata a gennaio, è nata dall'incontro di diverse professionalità, all'interno dell'associazione siamo un'equip di diverse figure, siamo psicologi, pegatagogisti, arti terapeuti, abbiamo anche il sostegno di alcuni insegnanti di scuola superiore. Questo perché? Questo perché volevamo creare un'associazione rivolta in modo particolare a preadolescenti e adolescenti, anche poi ovviamente eventualmente anche i loro genitori come sostegno, però guardando da un punto di vista che non fosse prevalentemente quello clinico, ma principalmente educativo. Quello che vorremmo realizzare, partendo appunto dalle esperienze, dalle competenze di ognuno, sia professionali che personali, è creare appunto una serie di attività, dei laboratori di espressione rivolto comunque all'adolescente e tenendo sempre a mente che però è un periodo in cui possono esserci delle difficoltà. Quindi la nostra formazione ci permette anche in quei casi in cui ve ne sia necessità di intervenire, comunque indirizzare particolari casi al di fuori per una presa in carico. Benissimo, quindi vi dedicate diciamo a quella fase della crescita che è l'adolescenza, si sa, per tutti è problematica, ma riuscite come dire anche a cercare quelle situazioni che possono essere potenzialmente più a rischio. Com'è che si riescono a decifrare? Bella domanda. Eh no, ma perché è un problema che in realtà, detto in maniera meno sofisticata, mi sono posta anch'io, no? Rispetto, mi posso permettere ormai alla mia età di fare il paragone con la mia adolescenza perché è passato esattamente 15 anni, quindi il mondo è cambiato terribilmente, siamo invasi dalla tecnologia, dai social network, c'è Instagram, che ci presentano un mondo che si vuole sponsorizzare e che molto spesso è molto diverso da quello reale. Quindi com'è che riuscite a far capire, a far passare questo messaggio che è fondamentale, altrimenti ci si troverà sempre inadeguati, no? Beh, innanzitutto diciamo che l'idea parte un po' da quella che riguarda la problematica del corpo, quindi quando, soprattutto a livello di rapporto con le tecnologie, quando il corpo viene a mancare, quando il corpo viene dimenticato o viene tralasciato, quindi questo può essere sicuramente uno dei primi segnali importanti che i genitori di questi preadolescenti e adolescenti colgono, quindi il fatto che il figlio non esca più di casa, magari si chiuda nella sua stanza per ore e ore, perda quelli che possono essere i contatti che invece potrebbe portare avanti e costruire nei luoghi scolastici, piuttosto che nei luoghi anche sportivi, quindi tutti quelli che possono essere dei momenti di aggregazione con il gruppo dei pari. Quindi sicuramente la prima domanda sorge dal genitore stesso, dalla coppia genitoriale che si pone proprio il problema del figlio, cioè vedendolo senza una comunicazione chiuso in quello che può essere il suo mondo, il suo mondo dei fumetti, il suo mondo dei videogiochi, il mondo dell'arte, però un mondo chiuso in se stesso e quello che vorremmo offrire noi con la nostra associazione è proprio uno spazio, una possibilità di rendere espressivo tutto questo e utilizzare l'espressione per poter parlare, quindi rendere importante la parola e cercare di far uscire, far emergere quelli che possono essere i disagi che effettivamente tutti noi in maniera diversa e in maniera soggettivamente diversa abbiamo potuto vivere in quella fascia d'età che è proprio l'adolescenza e soprattutto anche la preadolescenza, dove soprattutto anche a livello del corpo iniziano dei cambiamenti molto evidenti. Quindi quello che tentate di fare poi è proprio dare una risposta anche molto pratica, molto coinvolgente con ad esempio dei laboratori, facciamo avere proprio una ricetta concreta, non solo parole, com'è che fate, che cosa avete in programma quest'anno? Allora, avevamo in programma, rifacendomi a quello che diceva la mia collega, dei laboratori di arte e dei laboratori sul fumetto e sui videogiochi, in particolare rispetto alla tematica che hai sollevato prima, delle nuove tecnologie, tra cui fanno parte anche comunque videogiochi, tutte le console sia fisse che portabili. Adesso un ragazzo potenzialmente può andare a letto con la sua console portatile e giocare tutta la notte senza che magari anche il genitore se ne accorga. Quello che si vuole fare con questa attività che sarà tenuta da nostro collega non è quello di negare al ragazzo l'uso dei videogiochi. Il videogioco in sé non è malvagio, è il cattivo uso del videogioco che può essere pericoloso e può portare anche a conseguenze negative. Pensiamo a un ragazzo che sta tutto il giorno attaccato al videogioco, non ha più relazioni sociali, non esce, ha un calo negli studi perché ovviamente il tempo viene utilizzato solo per giocare. Quindi quello che si vuole fare è creare uno spazio che non sia giudicante, quindi no, tu non devi giocare al videogioco. Anzi, a noi va bene che il ragazzo abbia comunque un'esperienza di questo tipo perché il videogioco può essere spunto per l'immaginazione, per anche crescita, perché ci sono alcuni giochi che permettono di fare delle scelte che hanno delle conseguenze. Quindi il ragazzo si può interrogare su, ma ho fatto questa scelta e ho avuto questo esito, ma se avessi fatto l'altra. Quello che si vuole fare è quindi un aiuto nell'utilizzo del videogioco, senza però condannarlo, discutendone insieme, alla pari, quindi perché ci piace questo particolare genere, perché l'altro ci piace di meno. C'è da dire che il ruolo anche dell'associazione è fondamentale, perché le parole che dite voi, appunto vi mettete alla pari, cercate di comunicare con l'adolescente, non hanno lo stesso valore se pronunciate da un genitore, oppure, peggio ancora, da un coetaneo, perché lì ovviamente si dà proprio un peso diverso alla figura che cerca di comunicare con noi. Quindi qual è la chiave per cercare di comunicare con un adolescente? Cioè com'è che riuscite sostanzialmente a avere un peso diverso? Beh, innanzitutto, come diceva Alice, la questione del non essere giudicante. Quindi togliamo quella che è la problematica del giudizio, che è di fondamentale importanza proprio nel periodo preadolescenziale e adolescenziale, dove comunque si vive in un contesto in cui c'è un non devi farlo, è sbagliato, perché lo fai, fai qualcos'altro, non è giusto che tu lo facci in questo modo. Quindi il nostro intento è quello di avvicinarci a questa fascia di età così delicata, cercando di dar loro invece lo spazio per potersi esprimere con quello che hanno deciso di esprimersi, con lo strumento con il quale loro si sentono bene, riescono a stare bene e che magari gli manca semplicemente quell'aiuto, quel sostegno non giudicante per poter rendere l'espressione e la loro espressività comunicativa a tutti quanti, compresi anche i genitori stessi, che dall'altro lato, ai quali dall'altro lato noi cercheremo comunque di dare degli spazi, di offrire degli spazi di sostegno, dei gruppi magari di parola e di confronto. Quindi magari l'idea per una coppia genitoriale di potersi trovare e confrontarsi tramite la parola con altri genitori e quindi poter condividere quelle che sono i disagi, le preoccupazioni relative proprio alla preadolescenza e all'adolescenza dei loro figli. Benissimo, questo direi che è fondamentale perché sicuramente la sensazione da parte dei genitori è quella di impotenza, di incapacità e inadeguatezza a volte, quindi insomma avere anche il supporto di un'associazione è decisivo. Abbiamo dato tante informazioni, ma per chi le volesse recuperare avete un sito internet, come possiamo fare per metterci in contatto con voi e eventualmente iniziare a frequentare i vostri laboratori? Allora, al momento abbiamo una pagina Facebook dove è possibile reperire la nostra email e il nostro numero di telefono. Il sito purtroppo non è ancora operativo, ci stiamo lavorando vedremo se a breve saremo in grado di averne uno completo. Ci potete contattare tranquillamente via email o via telefono. Benissimo. Abbiamo anche il sito Facebook, quindi abbiamo anche la nostra pagina Facebook in cui comunque poi pubblicheremo i nostri eventi e le nostre attività. Benissimo. Allora, grazie moltissimo per essere state con noi qua questa sera e grazie davvero. Come sempre ci dobbiamo separare per qualche istante di pubblicità, ma davvero tra pochissimo torniamo con la seconda parte di Angoli, quindi restate con noi. A tra poco. Grazie. Grazie.